La provincia rimpasta le deleghe. Sarà il presidente Massimo Trespidi a sottoporre al Consiglio Provinciale l'ultimo bilancio dell'ente, mentre l'assessore Pierpaolo Gallini, accanto alle funzioni delle politiche sociali, ha ereditato dall'assessore Paolo Passoni anche società partecipate, politiche abitative e trasporti. Il nuovo assetto della Giunta è ora ufficiale, ma le dimissioni dell'ex assessore al bilancio Passoni fanno ancora discutere e più sollecitazioni sono arrivate al presidente Trespidi, oggi in consiglio dai consiglieri di tutti i partiti, perché si comprenda una volta per tutte la direzione in cui sta navigando la provincia. Al momento infatti si sa solo che nel 2014 le province non ci saranno più e al loro posto, secondo quanto annunciato dal neoministro Graziano Del Rio, nasceranno nuovi collegi incaricati di occuparsi di trasporti e viabilità, mentre i dipendenti saranno ridistribuiti tra uffici regionali e comunali. Ma in attesa di un riordino complessivo, la provincia cerca di portare a termine i suoi impegni, primo fra tutti la partecipazione all'Assemblea dei Socii di giovedì che dovrà approvare il bilancio di seta. Toccherà al mio assessore Gallini rappresentare il territorio. Bisogna presentarsi con la schiena molto dritta e ben corazzati, perché ritengo che come si siano evolute le cose in questi mesi, l'abbiamo sotto gli occhi di tutti, è necessario che Piacenza faccia sentire maggiormente la propria voce. Non che Passoni, il mio predecessore, abbia mai abbassato la guardia, però è necessario un supplemento di impegno. Poi c'è la necessità di guardare veramente bene i conti di questa azienda partecipata, perché ci rendiamo conto che a cominciare dalla Regione, che aveva promesso risorse e che purtroppo non sono ancora arrivate, è fondamentale lo stato patrimoniale e soprattutto garantire insieme un'ottimizzazione del servizio anche i dipendenti.